L'intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi che con i fondi delle banche italiane private permise alla Popolare di Bari di salvare la Tercas nel 2014 non fu un aiuto di Stato. La notizia diffusa ieri arriva dal Tribunale dell'Unione Europea che boccia la Commissione Europea per avere in sostanza posto un veto all'uso dello strumento del Fondo Interbancario costringendo l'Italia a percorrere altre strade tra cui il ricorso all'arbitrato o quello del giudizio penale. La Banca Popolare di Bari, come ha annunciato ieri il presidente Marco Iacobini, valuterà determinazioni su eventuali azioni di rivalza e di richiesta di risarcimento nei confronti della Comunità Europea. Questa decisione assunta nel dicembre del 2015 ha causato ingenti danni alla banca, a suoi soci e a tutti gli altri stakeholder anche per i notevoli ritardi provocati nella programmata azione di crescita e sviluppo del gruppo Banca Popolare di Bari, ha spiegato Iacobini. La bocciatura della Direzione Generale della Concorrenza dell'Unione Europea bloccò anche analoghi interventi su Cari Ferrara, Banca Marche e Banca Etruria. Le trattative, ricordiamolo, non ebbero buon esito a Industria e le autorità italiane ed europee a mandare in risoluzione il 22 novembre 2015 le quattro banche con conseguenze devastanti per tanti piccoli risparmiatori. La sentenza di 27 pagine messa ieri dal Tribunale dell'Unione Europea sancisce un principio molto importante come spiega l'avvocata Vanna Pizzi che ha curato il ricorso di alcuni risparmiatori all'epoca del crack delle banche e difende i risparmiatori del Comitato di Pizzoli in provincia dell'Aquila, in quanto il fondo vende riconosciuto per la Banca Popolare di Bari per poter rilevare Tercas nel 2014. Dopo la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea la domanda a cui occorrerà rispondere al più presto è se il fondo sarebbe potuto, senza il veto europeo, intervenire anche per le alte crisi bancarie. Sicuramente sì, spiega l'avvocata Vanna Pizzi, se avesse avuto la libertà di agire e avesse deciso di intervenire è possibile immaginare che la situazione gravosa di perdita per i risparmiatori non si sarebbe determinata. Ora i legali e i comitati dei cittadini beffati dal crack bancario stanno valutando la possibilità di rivendicare una lesione dei propri diritti, in quanto l'intervento del fondo avrebbe limitato di molto il danno. Se la Commissione Europea non si oppurrà alla sentenza ipotizza Pizzi, anche per i risparmiatori di Pizzoli si potrebbe aprire l'ipotesi di un'azione di rivalsa.